Né improvvisa né clamorosa, la ritirata dei foglieri getta solo inchiostro sulle pagine delle sceneggiate. Tante ne contiene la storia del Foggia e questa, firmata da Pacui e Raffaello, non sarà neanche l'ultima. Quanti ne sono passati allo Zaccheria? Faccendieri, pseudoimprenditori, avventurieri in cerca di affari nel mondo del pallone. Gli ultimi l'attacco li ha chiamati bidonisti, anche se il bidone non l'hanno fatto. C'è solo un preliminare non onorato che potrebbe avere il sapore di una mezza beffa. Fatti loro, al Foggia non hanno recato danni. La vicenda comunque fa specie. Non sfuggirono ai giornalisti, accanto a Fedele Sannella nella tribuna della Regamonti di Brescia. Fares smentì la trattativa e l'avvocato la confermò al telefono di Gianni Ciccolella qualche giorno dopo. Poi Pacui mise il cappello e con il figlio Raffaello venne a Foggia. Prima prese un caffè in centro con i Sannella, poi sbarcò allo Zaccheria. Franco fece i doveri di casa e insieme dissero che l'affare era praticamente fatto e che tutto sarebbe stato notificato tra Natale e Capodanno. Poi un ritardo burocratico della pratica, quando sembrava tutto fatto l'annuncio di ieri mattina della trattativa saltata. Che figura di merda! Quella dei foglieri non sarebbe comunque una resa. Tempo al tempo, ha detto stamattina l'avvocato al telefono. Intanto il tempo è quello di Franco e Fedele Sannella, garanti del progetto Foggia. Non con le chiacchiere, con i fatti. Hanno allestito un nuovo Foggia che potrebbe andare oltre la linea della salvezza. Franco e Fedele, insieme all'amico Armandino Russo, brindarono alla rivoluzione rossonera la notte di Capodanno in un lussuoso albergo del Brindisino. Champagne! Il sogno continua! Grazie a tutti!